Allora, che cosa manca? Primo, la cultura. Nessuno di questi legge un libro, una rivista internazionale, sa cosa accade nel mondo. Secondo, la riduzione della politica a marketing. Per cui se in un certo momento mi va di moda, che ne so io, il green, si dice, beh, sa, chiudiamo i gasdotti. Cosa succede se chiudi i gasdotti? Che poi, o non fai gasdotti, che poi la bolletta si impenna. Allora dici, paghi tutto lo Stato, come se lo Stato fosse Babbo Natale. Lo Stato siamo noi, no? Cioè, i soldi ce li mettiamo sempre noi. E tutto questo è nell'ottica della, primo, della mancanza totale di spessore culturale. Della mancanza totale anche di capire cosa succede fuori dall'Italia e della riduzione della politica alla pancia. Io sono un esperto di pancia fisicamente, ma nel senso di andare dall'elettore e dirgli che dice l'elettore al bar stamattina, che le bollette sono troppo cari, no? Più 50, 100 miliardi. Poi, che dice l'elettore domani che vuole il green perché ci sta Greta? Basta gas. E mai c'è un ragionamento di congruenza delle cose che si dicono. E questa cosa può essere spezzata solo smettendo di votarli. Perché se non smettiamo di votarli... Beh, già c'è una parte importante di italiani che non va proprio più a votare. Ma certo che non va a votare, perché ha visto quelli che dicevano... Lei pensi che i 5 Stelle, quando io ero al Ministero e ho fatto la TAP, che è il gasdotto che oggi almeno diminuisce del 10% il prezzo, che sono dovuto essere scortato, mi hanno detto che ero un nazista, uno al servo delle lobby. Oggi i 5 Stelle dicono, no, 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 ma il TAP andrà a piatto, è una cosa fantastica. Ma non è che ti dicono, ma perché hai cambiato idea cosa dicevi ieri? No, ieri era dal punto di vista di marketing utile dire questo. E allora dicevano che il gas a 8 metri sotto terra era cancerogeno, quando noi tutte le mattine usiamo il gas per farci il caffè. E oggi dicono l'opposto, nessuno lo spiega. Allora questo è un universo dove non esiste più alcun valore di natura etica. Capito? Cioè, non esiste. Allora in tutto questo è chiaro che il Paese va a mare. Cioè, per me è del tutto evidente. E poi a un certo punto ci renderemo conto che non possiamo votare gente a cui non affideremmo un bar se ne ereditassimo uno.